Buongiorno o buonasera ragazzi e bentornati ad un mio nuovo video. Come sapete bene sono McKenno e oggi sono sempre con Iron Fighter 98 su l'inaugurazione della mia serie su Black Ops 2. Oggi siamo sempre tutti contro tutti, molestamente, e faremo questa classe qua. Lo schifocesso, l'ho inventata io ed è una classe che fa proprio vomitare. Vomitare, perché come avevo detto nella scorsa serie ci saranno due classi fatte bene, una da me e una da lui, e due classi fatte con i piedi, una da me e una da lui. Questa è la mia classe fatta con i piedi, da me. Allora, guardate bene sto schifocesso, che è Kikom CQB, che già non fa danno anche se gli metti FMJ e canna lunga, quindi pensa te. Col silenziatore, l'estrazione rapida, e poi secondaria c'è la 5-7 con il silenziatore. Proprio dei nerf, dai, so dei nerf queste armi. Poi, specialità 1, antischegge, specialità 2, roba forte, specialità 3, maschera tattica letale, bounce in betty, e tattico scossa elettrica. Bene, cominciamo la partita, sempre sul ride, che vinca al migliore. La scorsa è finita a pareggio, poi chi vince più volte si vede, eh, eh, eh. Vai. Sempre sulle colline di Hollywood, USA. Infittazione statica vi permette di stare il punto dove rientrerai, ovvio. E oggi faremo, appunto, lo schifocesso! Guardate, brutta che è. Pronto, bruttissima. Ok, ora cominciamo ad ammazzarci a vice... Guardate come spara piombini, st'arma, è impossibile, c'è un caricatore per ammazzarlo. È bruttissima! Quest'arma, non capisco come faccia a essere nell'esercito di... Eh, come ha fatto ad ammazzarmi così veloce... Ah, vabbè. Quest'arma non capisco, come faccia a essere nell'esercito. Praticamente è meglio fosse un'arma da soft air. Eh, 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 eh. Ok, ora me. Porco il demonio, mi ha preso di nuovo! Bene il radar, sempre attivo. Se hai deciso di metterlo, se no, non ci si trova mai. Ok, di qua. Cerchiamo di fregarlo. Dove è sorti? Dove sei? L'ho ucciso! Sì, l'ho ucciso. Cacchio. Madonna, è impossibile. Ora cambiamo zona della mappa. Prendiamoci tutto quello... Ciò che era nostro. Ok. Chissà dov'è. Ce la posso fare? Scappa, 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 e lo frego. Dov'è? Dove sbuca? Ragazzi, ho paura. Porco il demonio! Ma come fa a chiapparmi? Starman non dovrebbe fare niente. Eh, l'ho ucciso! Bene! Eee... Col cacchio. Dov'è? Dov'è? No! Ma, 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 ce la può fare! Morici, morici! No! Non è morto! La secondaria era la 5-7. Ora voglio provare. Eh, ucciso con la 5-7 silenziata! Che schifo di arma! Io temo per la sua, quella, 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 la sua schifosa, perché la sua classe schifosa che davvero l'ha fatta, copiè. L'ha presa un po' da me, da Just Ron nei video di Popò di Arma di Johnny Creek che era l'S-12. Oddio, spoilerato, vabbè. Attenzione. Notare come spara piombini? Mo' mi viene di qua. Sto qua se ne sta nascosto. Porco il demonio! Sì! Yes! No! Giù! Ok, vai, vai. Ora andiamo da un'altra, da un'altra parte, se no... Oh, è divertente quest'arma che non uccide nessuno! Fa uno schifo di danno! No, no, no! Non mi puoi prendere! Sì! Orco il demonio! Dov'è? Cacchio! Ora mi vieni qua! Scappa, 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 scappa! Nasconditi qua dietro, va! Dov'è? No! Cacchio! Scappa, scappa! Scappa! Ti prego! Porca! No! Come ha fatto? Ci denta la scheggia di vetro! M'ha preso! No, non ci credo! Attenzione, attenzione che... No, gli vado all'attacco così, eh! Veso aperto! È lui! Ma come? Ma come? Cazzo! Vieni, vieni! Vieni, vieni! No! Ha fregato! No! Siamo morti entrambi? Non ho capito! Vabbè! Non ha funzionato, mi sa! Sì! Ucciso! Yes! Sei pari! Andiamo, andiamo che ce la posso far rimontare! E poi ci godo! Dai, ecco! L'altra è finita in parità! Ora non credo finisca pure questa in parità! Dov'è? Porco il demonio! Eccolo che arriva! Di qua, di qua! Scappa, 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 scappa! Qua, dietro! Giù! Dietro! Scappa, scappa! D'acchio! Sembra una scena dei western dove tutti scappano mentre schivano i proiettili Merda! Splode! No, 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 no Mi mancava lo scoreggio e morivo però! Dai, ma quando si ricarica! Accidenta, starma di soft air Ma non spara niente! Spara... Spara scoreggio! Ah, no! In questo caso no, dai! C'è da dirlo! Ok, ora giochiamo a saltare da un pilastro all'altro Aspetta Pa, pa, pa! No, sì! Porco il demonio! Morici! Sì! L'ho... L'ho ucciso! Yes! Oddio, questa è una kill abbastanza epica, dai! Oh cacchio, lo vedo però Dov'è? Ah! Corri di qua! Sì! Ci godo! No, dai, vabbè È bravo, eh! Tanto che a volte vinco io, a volte vince lui Non mi sale Ancora! Ah, già, è vero C'è il radar Mo' Mo' Attenzione Mi ci respawna così vicini No! Non è flosa La mia! Dai! Cacchio, due minuti Dai, devo rimontare E cercare di fregarlo Se no Mori! Attenzione, eh! Devo, devo, non devo fargli fare una kill Suicidi o assistito Vai! Undici! Da che posso vincere? Ok, di nuovo Ucciso di nuovo Madonna, quante raffiche per spaccare un vetrino Per capire quante è polla, eh! Ok, dov'è? Boh Andiamo a cacciarlo Non capisco perché C'è la faccia ad ammazzarmi così, boh Guarda! Io gli sparo 40 milioni di colpi Non mori! Non mori! Mai! 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 Ora vieni, eh! C'ha il coraggio Ragazzi, mi dispiace ma mi tocca fa Ecco, è passato dalla finestra Corri Ma dai! Ma perché non me lo mira? Mi mira così Dai, questo mino No! No, 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 no Dai, dai, dai Devo rimontarci Sì! Ho ucciso, vai Dai, dai, dai Che posso Posso rimontare Anche se di poco Eh, ma subito no, però Corri, corri Via, eh Possiamo finire in parità E me basta Vai, la bomba qui La scossetta qui No! Porco il demonio! Ma come fa ad ammazzarmi così? Dai! È impossibile! Sì, ora come lo ammazzo? Dai, ah Ma è impossibile! Mi spiro 40 milioni di colpi e non muore Ma chi è il Robocop? Ora voglio... Ora si sbecco che c'è una classe diversa No, è la stessa Guarda, scusa Un colpino Mi uccide subito Anche da dietro il riparo Porco il demonio Ora devo rimontarlo Ora... Le prossime due le devo vincere Dai, ti prego Devo vincere Vabbè ragazzi Questa partita è andata così Ci vediamo alla prossima Buongiorno o buonasera Buonasera Grazie a tutti